ciao a tutti da nicola castiglione dalla selezione nazionale piloti e benvenuti a un nuovo appuntamento con racing time il tg dei motori allora quella di oggi è una puntata un po particolare perché innanzitutto è una puntata dove io sono incavolato nero e dove io devo chiedere scusa sono incavolato nero per questo discorso di simone resta perché uno va bene mi dispiace che vada via due io devo togliermi questo bruttissimo vizio che ho di dare le notizie che so tanto tempo prima con molto ritardo perché perché il mondo del motosport è veloce e veloce non solo in pista ma anche fuori anzi soprattutto fuori dalla pista è una notizia una news che io sapevo di una settimana fa non devo darla con una settimana di ritardo anzi tra l'altro si basava su un qualcosa che era stabile addirittura l'ho saputo stamattina dieci giorni fa ecco tante volte è capitato che io vi ho detto ragazzi questa notizia un po che devo darla la do oggi ecco non devo commettere più questo errore perché a volte non la do perché me la dimentico come nel caso di simone resta altre volte perché c'è la mura la metto in scaletta e poi la salto senza accorgermene ebbene devo decidermi a darle o subito o mai più perché se no faccio commetto l'errore che ho commesso ieri sera di che cosa sto parlando ieri sera ho parlato per chi non avesse visto il video e io voglio rimarcare il mio errore perché sono fatto così e nel contempo vi chiedo scusa ho parlato di simone resta che era una figura dalle mie informazioni di una settimana fa per il momento stabile in ferrari manco il tempo di dirlo stamattina salta fuori che simone resta va in mercedes sono saltato dalla sedia allora che cosa ho fatto mi sono messo al telefono mi è stato detto che comunque era una news che mi avevano dato una settimana fa e si riferiva prima di jedda quindi al livello temporale di cose in questi dieci giorni ne sono successe e da lì ho capito ho iniziato a fare lo stalker sono grato che di non essere stato mandato a quel paese anzi tra l'altro uno di questi santi che che ho come come dire come li chiamiamo amici ecco perché amici sono mi ha detto di farmi sentire un po più spesso perché le cose camminano veloci testuali parole e allora così farò tra l'altro me l'avete detto voi quindi anzi me l'hai detto tu quindi andiamo sul sicuro comunque ho cercato di ricostruire un po tutto ho capito che questa accelerazione nella trattativa simone resta mercedes è stata fulminia ed è successa tutto nell'ultima settimana dieci giorni e c'è un motivo ben preciso ora mettiamo la sigla e poi preparatevi a una puntata dove cercherò un attimino di riparare a questo mio errore perché l'ho preparata veramente in maniera molto meticolosa ci sono vari passaggi che vanno analizzati e quindi cercherò di chiedervi scusa con i fatti quindi sigla e poi iniziamo dunque all'inizio ero convinto che si trattasse di uno scambio di uno scambio quindi una trattativa che già c'era da un po tra serra e simone resta tra geron d'ambrosio e enrico sampo invece ho scoperto che le cose non stanno così semmai uno scambio ci potrebbe essere in termini di durata del garden in living che se viene ridotto quello di simone resta e sampo verrà ridotto anche quello di geron d'ambrosio e soprattutto lo ha serra ma questo è come dire un qualcosa in mano a basse che tra l'altro ragazzi vi dico anche di più non ha così le mani legate come sembrava in un primo momento certo non ha i poteri assoluti che aveva binotto però si sta muovendo così bene da avere abbastanza indipendenza su quello che fa e voce in capitolo su molte decisioni una delle cose che ho scoperto capito stamattina è stata proprio questa qui quindi la mia domanda la mia prima domanda è ma come mai vi siete fatti scappare simone resta ebbene simone resta nella jazz come in realtà avevo detto tempo addietro non aveva spazio perché il direttore tecnico è enrico cardile e ci rimane anche quando arriverà serra soprattutto se confermerà sul campo a livello di sviluppi quanto di buono ha fatto vedere con il salto qualitativo tra la sf 23 e la f 2024 per i nuovi iscritti io la chiamo così e quindi questo è un dato di fatto allora lui che cosa avrebbe dovuto fare avrebbe dovuto collaborare con cardile e magari cercare spazio in uno staff di tecnici di collaboratori che a cardile che è ben olleato è molto equilibrato e soprattutto sereno da quando alcune figure sono andate via dalla ferrari quindi in jazz mi hanno spiegato che a breve spazio per lui non ce n'era allora c'è il rec però anche lì più o meno c'è una situazione simile allora a questo punto simone resta che ha ricevuto diverse offerte in realtà sul tavolo non solo da parte della mercedes ha scelto mercedes ma soprattutto perché negli ultimi dieci giorni questa e ha scelto mercedes con il cuore questo ve lo dico per certo volendo restare a maranello fino all'ultimo fino all'ultimo ed è quello anche che mi dicono alcuni amici di simone fino all'ultimo lui voleva restare in ferrari del resto lui è nato e cresciuto lì ha sempre fatto una carriera o in ferrari o nei team tipo sauber quando era come ass o a se stessa in cui veniva dirottato da ferrari l'ultima volta è stato dirottato male da binotto perché per incompatibilità di carattere mettiamolo così a seguito di alcune discussioni è stato preso e parcheggiato lì ma detta questa cosa ragazzi simone resta a un certo punto riceve un'offerta importante non in qualità di direttore tecnico della mercedes c'è ellison ma attenti è stato proprio il direttore tecnico della mercedes ovvero ellison a volerlo fortemente e a dare un'accelerazione alla richiesta quindi alle trattative di simone resta proprio negli ultimi dieci giorni allora la domanda la seconda domanda che mi sono fatto è ma perché che cosa è successo negli ultimi dieci giorni è successa una cosa noi c'è tante volte non viene dato peso alle parole ma in realtà magari un giorno vi racconterò quanto una parola detta nel paddock abbia condizionato una mia intera stagione agonistica e l'ha condizionata in senso negativo a livello dei risultati una parola stavo volando stava andando benissimo di colpo non ho camminato più ebbene dobbiamo dare più peso alle parole di alcuni l'arte della comunicazione allora ricordate a jedda tutto è legato sempre ciò che sta succedendo in redbull e attorno alla figura di adrian newway anzi adrian newway così si pronuncia allora che cosa è successo a jedda toto wolf ha detto che per lui sarebbe un sogno avere joss festappen porte aperte anche per il mut marco e perché no per adrian newway se non vuole rimanere in redbull ma newway che cosa va a fare in ferrari se già c'è una scusatemi in mercedes se già c'è una figura come quella di ellison ce lo siamo chiesti ellison è direttore tecnico in mercedes come potremmo dire vasce lo è in redbull ma le cose non stanno esattamente così perché vasce sopra di lui ha sempre newway ellison sopra di lui a se stesso non ha nessuno lui deve rispondere solo alla figura di toto wolf e quindi che cosa è la la mossa in questa partita scacchi da fare potenziare il proprio organigramma tecnico e quindi chiedere a gran voce l'arrivo di simone resta e anche di un'altra figura quella di enrico sampo enrico sampo perché ecco lui fa male che vada in mercedes perché è una figura importante del simulatore della ferrari che nonostante gli errori di inizio 2023 che ribadisco sono stati dovuti a ciò che veniva inserito al livello di dati sul simulatore il simulatore ferrari funziona e funziona veramente bene e lo ha dimostrato con la nuova vettura cioè con l'ef 2024 e lo vanno a dimostrare anche le parole che proprio oggi ha speso enrico cardile quando si dice un tempismo eccezionale o piuttosto sempre quel discorso lì l'arte della comunicazione perché oggi si parla di un resta che va via dalla ferrari però cardile lì che butta acqua sul fuoco perché lui ha parlato innanzitutto di una buona correlazione degli strumenti di simulazione il che è senz'altro positivo poiché le limitazioni vi sto leggendo le sue parole che avevamo riscontrato in fabbrica con la f 2024 durante l'inverno sono state confermate dalla pista e poi le prime gare hanno dimostrato una cosa ci hanno chiarito in quale direzione seguire lo sviluppo quindi questa cosa qui è importante cioè lui ha sottolineato che la ferrari ha un buon simulatore che sa esattamente dove intervenire sulla vettura per accorciare le distanze dalla red bull poi c'è anche la tempistica importante portare gli sviluppi presto in pista però qui mi sento di contraddire alcuni commenti perché se tu li porti troppo presto rischi di fare una cosa di fretta di premura e le cose fatte di premura non vengono mai troppo bene e rischi di bruciarti questo sviluppo piuttosto che quell'altro comunque mi fa tanto sorridere il fatto che nel giorno di resta parli cardile quindi come a dire come a tranquillizzare un po tutti e dire ragazzi state tranquilli che va tutto benissimo continuiamo per la nostra strada ripeto che vada in mercedes mi può far piacere per lui che ci vada san po ecco lì sono un po meno contento ma evidentemente la figura di san po è una figura perfettamente sostituibile perché sono se no sono sicuro avrebbero fatto di tutto per trattenerlo bene andiamo avanti perché un'altra notizia anzi veramente ce ne due è una riguarda Verstappen e l'altra riguarda proprio adrian newway allora il sempre più voci in realtà perché non viene solo da una voce questa cosa qui solo da una testata però sempre più voci vogliono adrian newway con come dire in ferrari soprattutto dicono che cosa queste voci che le trattative sono a buon punto ora io vi dico tutto quello che so perché spesso me lo chiedete riguardo al caso newway praticamente un po come ho detto nel video di ieri lui ha sul tavolo quattro proposte due di queste abbastanza interessanti due molto interessanti una nata negli ultimi giorni allora quali sono queste quattro chance che ha lui per la sua carriera rimanere in Red Bull ma sicuro che voglia restare in Red Bull perché se tu ci stai che tutto va bene ok ma se tu ci stai che vedi tutta questa barca che va alla deriva non è che si lavora poi tanto bene soprattutto perché un po ti sei schierato no anche se poi sei ritornato indietro quindi il discorso Red Bull dipende tanto da come verranno e se verranno messe a posto le cose lì dentro poi c'è un'altra offerta sul tavolo però che si sta sgonfiando in queste ultime ore ovvero quella è la Mercedes che vorrebbe come soprattutto Verstappen ma perché no anche Adrian Newway però abbiamo visto come Toto Wolf che avrà 100.000 difetti ha un qualcosa legato alla lealtà a livello di pregio che poi a livello sportivo per esempio nel 2021 si è rivelato un difetto perché aveva Bottas poteva sostituirlo a inizio 2021 con Russell non se l'è sentita di farlo e ha tenuto Bottas ci fosse stato Russell io sono convinto che il mondiale l'avrebbe vinto Lewis Hamilton perché più veloce di Bottas e quindi avrebbe tolto punti importanti a Verstappen e forse avrebbe dato in qualità di giovane pilota una mano in più al proprio compagno di squadra e questo è uno con Hamilton non ha mai accennato a cambiarlo nonostante le sue richieste mostruose a livello di stipendio e quindi anche lì è stato molto leale e io mi aspetto che faccia la stessa cosa con Ellison evitando di andare a mettere sopra un progettista che poi indicherebbe qual è la strada da seguire però dobbiamo tenere conto di una cosa anche qui le cose si muovono alla velocità della luce e quindi se Ellison non riuscirà a dare una leggera svolta a questa stagione Toto Wolff potrebbe un po' insistere con Adrian Newell. Poi c'è la proposta della Ferrari che è già stata fatta da tempo e non c'è nessun annuncio da aspettare a momenti perché da quello che mi risulta stamattina non una settimana fa le trattative sono ancora in corso la proposta è di quelle importanti cioè sono stati messi sul piatto tanti dindini ma non solo anche una certa libertà però ancora non c'è nessuna risposta e questo ve lo dico in maniera molto molto sincera poi se gliela danno tra cinque minuti quello non è colpa mia e infine salta fuori che cosa salta fuori la Ston Martin che sarà motorizzata Honda dal 2026 Honda New Way ci va d'accordo Verstappen ci va d'accordo e quindi che cosa fanno fanno un'offerta molto importante ma molto molto importante a New Way parlo di importanza intesa così e anche lì tu che fai magari sei deciso a fare una cosa e dici aspetta fammi considerare pure questa è così che funziona quindi questo è quanto in realtà oggi c'è un'altra voce che vuole Verstappen quasi sicuro cioè lì che con la penna sta scrivendo la M di Max però secondo me questa è una news messa lì per mettere pressione a tutto quello che è il team Red Bull per quel che riguarda la figura di Christian Horner a proposito di questo di Horner vi voglio dire una cosa allora praticamente una cosa che non vi ho detto però questa credo che non l'abbiate sentita da nessuna parte ha un paio di giorni sta notizia lo faccio per l'ultima volta credetemi allora la nostra amica Fiona si è rivolta a un'agenzia di pubbliche relazioni per impostare appunto questa campagna di contrattacco oltre ad aver cambiato avvocato ha anche aggiunto un'agenzia di pubbliche relazioni per muoversi al meglio in questo contrattacco a Horner ecco tutto qua che cos'è che non ha digerito Fiona la sospensione la sospensione dal suo ruolo in Red Bull questa è stata forse la mossa sbagliata andiamo avanti perché poco fa vi ho detto una cosa ovvero Vasser ha molta voce in capitolo una delle voci in capitolo che ha riguarda il terzo pilota perché praticamente se Sainz non dovesse superare le visite mediche correrà di nuovo Birman e questo nonostante abbia provato Giovinazzi la scorsa fine settimana cioè la Ferrari in questo momento ha tre terzi piloti Giovinazzi, Schwarzman e Birman ma perché far correre Birman proprio lui, proprio il più giovane proprio colui che ha meno esperienza di tutti in Formula 1 perché Vasser ha detto che non vuole designare in qualità di terzo pilota che va a legare una figura come quella di Schwarzman o come quella di Giovinazzi perché significherebbe costringerli a seguire il team di Formula 1 per 24 weekend perché il pilota avesse pronto sul posto eventualmente a correre non puoi chiamarlo dall'Italia e aspettare che parta quindi questa è la notizia se non corre Sainz correrà di nuovo Birman poi per quel che riguarda sempre la Ferrari altre due cose allora a livello di ala posteriore che cosa userà la Ferrari a Melbourne? molto probabilmente quella che ha utilizzato ragazzi nei primi due gran premi in realtà c'è una seconda ala disponibile al momento ma non è nuova è l'ala a medio carico che la Ferrari utilizzava l'anno scorso e che andrebbe benissimo pure quest'anno però io credo poi la pista ci darà la certezza come al solito che in una pista come quella di Melbourne fatta di tante curve a media velocità l'oro andrà e con dei rettilinei un po' più corti quelli di Jedda con delle velocità di punta da come dire tu ci arrivi ma inevitabilmente per meno tempo ebbene io credo che loro si orienteranno su questo tipo di ala poi magari faranno anche delle prove comparative quello non lo vedremo però mi sembra la scelta più logica e a proposito dei piloti Ferrari neanche il tempo che l'Ecar è arrivato in Australia la FIA si è andata a cercare un cartodromo al coperto e ha iniziato a girare in kart lui con le mani in mano proprio non ci sa stare deve stringere un volante tra l'altro ragazzi si è scelto un kart a caso cioè questo qui con il numero 16 guardate un po' grande char poi altra news la FIA dopo Jedda e l'ha comunicato proprio oggi la FIA ha investigato sulla vettura di Verstappen allora si dice ufficialmente che l'investigazione sia stata casuale come la FIA ha dichiarato che le fa sulle varie vetture in realtà l'ha fatta perché l'anno scorso c'era stata una lamentela da parte di tutti i team sul fatto che la vettura di Verstappen fosse stata in assoluto la meno verificata di tutta la griglia che cosa ha guardato la FIA? ha guardato un bel po' di cose cioè la presa d'aria del motore il sistema di raffreddamento poi l'impianto dell'olio gli ammortizzatori delle sospensioni anteriori e posteriori e infine l'intercooler questo ha comunicato la FIA andiamo a parlare per un attimo voglio rispondere più che altro a una domanda tecnica allora quando parliamo di campanatura spesso parliamo di perlomeno io non ne ho parlato mai però uno degli iscritti al canale ha letto questo EOS Camber Limit che cosa significa EOS Camber Limit? praticamente è il limite che la Pirelli impone ai vari team EOS significa End of Straits è il limite che la Pirelli impone ai vari team riguardo all'apertura in negativo della campanatura cioè significa che questa linea dritta ecco finisce a 3 gradi a meno 3 gradi e 25 per quel che riguarda le ruote anteriori e a meno 1 grado e 75 per quel che riguarda le ruote posteriori cioè non può andare più in qua questa linea non può spostarsi più in qua vedete quindi la fine del limite della linea è appunto 3.25 e 1.75 per quel che riguarda Melbourne quindi End of Straits cioè praticamente è il limite di Camber se volete che io riposti un video sul Camber ditemelo perché tempo addietro ne avevo fatto uno abbastanza carino quindi scrivetemi nei commenti se avete voglia di rivederlo infine vi do gli orari delle conferenze stampe di domani non lo faccio mai c'è un motivo per cui lo faccio secondo me potrebbe essere particolarmente interessante le domande che faranno a Bassel vedremo come risponderà perché ci saranno delle domande interessanti soprattutto per quel che riguarda appunto il mercato tecnici ragazzi io vi rinnovo le mie scuse veramente mi dispiace non devo fare più questo errore di comunicare ciò che so molto prima tanto tempo dopo spero con questa puntata dove ho fatto lo Sherlock Holmes della situazione di essermi fatto perdonare se è così per piacere scrivetemelo perché per me è importante saperlo un bacio ciao ci vediamo stanotte